Guardate cosa succede dietro il grande mistero di Edoardo. Edoardo Franco, noto per la sua partecipazione a Masterchef, ha sorpreso il pubblico durante una puntata dell'Isola dei Famosi tagliandosi i capelli di fronte alle telecamere e ai suoi compagni naufraghi. Un momento sorprendente, che ha suscitato molte domande riguardo alle sue motivazioni. Ma perché Edoardo ha preso questa decisione così radicale in uno show televisivo? La risposta arriva poco dopo, quando la sua fidanzata fa la sua inaspettata apparizione sull'Isola. Era stato proprio lui, durante una precedente puntata, a esprimere il desiderio di rivederla e di dichiararle il suo amore. Così, di fronte alla sua compagna, Edoardo ha vissuto un momento di grande felicità. Ma c'è di più. Vladimir, uno dei suoi compagni di avventura, gli comunica che grazie al suo gesto di tagliarsi i capelli, «Tutti potranno godere di una cena speciale». Edoardo ha accettato senza esitazione, dimostrando ancora una volta il suo spirito di sacrificio e solidarietà. La reazione dei suoi compagni naufraghi non è stata meno emozionante. Hanno elogiato la sua autenticità e il suo gesto altruistico, riconoscendo in lui una persona sincera e meritevole di essere premiata. In conclusione, la decisione di Edoardo non è stata solo un modo per vincere una cena, ma anche un gesto di amore, generosità e vera umanità. Edoardo Franco si conferma così non solo un grande chef, ma anche uno dei migliori naufraghi mai visti in questo reality. La sua azione ha mostrato una dimensione più profonda della sua personalità, andando oltre la semplice partecipazione a uno show televisivo. Edoardo ha dimostrato di essere pronto a mettere da parte il proprio ego e i propri interessi personali per il bene del gruppo, incarnando così i valori di solidarietà e altruismo. La sua scelta ha suscitato ammirazione e rispetto da parte dei suoi compagni naufraghi e del pubblico a casa, confermando la sua posizione come uno dei concorrenti più stimati e amati del programma. Il gesto di Edoardo ha aggiunto un elemento di suspense e sorpresa alla dinamica del programma, tenendo incollati gli spettatori fino all'ultimo istante della puntata. La sua determinazione nel sacrificare il proprio aspetto esteriore per il bene comune ha reso la sua partecipazione ancora più coinvolgente e memorabile. Ora, mentre il reality prosegue e nuove sfide si presentano, Il ricordo di questo gesto di generosità continuerà a risuonare, ispirandosi ai suoi compagni naufraghi che il pubblico a casa. La presenza di Edoardo sul programma ha sicuramente portato una ventata di freschezza e autenticità, contribuendo a rendere l'esperienza dell'Isola dei Famosi ancora più emozionante e significativa per tutti coloro coinvolti. Il suo gesto ha evidenziato la capacità di trasformare una semplice competizione televisiva in un momento di condivisione e solidarietà, dimostrando che anche nelle situazioni più estreme è possibile trovare spazio per gesti di amore e compassione.